Allora siamo a casa Laiolo, siamo a fine giugno e una delle fioriture sicuramente più caratteristiche della casa sono proprio le ortensie. Sono utilizzati da moltissimo tempo, anche dall'ottocento ed è un fiore veramente ornamentale, molto bello, molto scenico sicuramente. Ci sono tantissime specie, tantissime varietà anche di ortensie, in questo caso è una delle più comuni, quindi l'idrangea macrofilla. Sono sicuramente un genere molto interessante, in questo caso la macrofilla è originaria del Giappone, ma ci sono tante altre specie, tante altre varietà che in realtà sono originarie anche dell'America. Ad esempio abbiamo l'idrangea quercifolia, che è anche qui presente in ville ed è fiorita in questo momento. Effettivamente le ortensie sono delle piante che necessitano di molta acqua. Un'altra cosa molto importante è l'esposizione. Di norma l'esposizione delle ortensie è un'esposizione, come si dice, in ombra luminosa. Hanno bisogno di ombra, ma anche di una luce che comunque le permetta di svilupparsi in maniera vigorosa e produrre poi dei fiori. Quindi sono di quelle piante che in realtà gradiscono molto l'acqua e gradiscono anche essere innaffiate, quindi anche sopra la foglia. Spesso quando bagniamo le piante dobbiamo fare attenzione magari a non bagnare troppo le foglie, soprattutto se fa caldo o comunque se ci sono determinate condizioni. Nel caso delle ortensie invece sono piante che gradiscono molto anche l'acqua sulle foglie. La caratteristica fondamentale anche per la quale si usa spesso nei giardini è che è anche molto ornamentale in autunno, infatti tende a prendere un colore rossiccio, giallastro, anche arancione. Tra le alte idrangeacee invece presenti qui in villa abbiamo anche un'ortensia che viene detta ortenzia rampicante, che è lo schizofragma idrangeoides. Perde sempre le foglie, è originario dell'Asia e fa queste fioriture simili a quelle delle ortensie ma molto più leggere, quindi in realtà con una corolla solo di petali più evidenti. Ed è un appunto, si arrampica, quindi sempre in posizione ombrose, gradisce sempre una buona umidità nel terreno, quindi una buona quantità d'acqua e può ricoprire un muro tranquillamente rendendo veramente molto ornamentale il tutto.